La primavera si è ormai affacciata nel 2021, il che vuol dire che oramai siamo anche prossimi all'inizio della nuova stagione della Major League Baseball. Il primo di aprile ci sarà la nuova stagione del regolare per quanto riguarda il campionato di baseball americano e sarà un campionato completo dopo la stagione scorsa che ha visto 60 paesi di regular season più questo tabellone a 16 squadre per i playoff. È una stagione del baseball americano che si pronuncia molto interessante e il tema principale è la squadra che vedete al centro del tabellone perché arriviamo ad una stagione 2020 dove i Los Angeles Dodgers hanno trionfato nelle World Series in sei partite contro i sorprendenti Tampa Bay Rays e appunto il tema principale che tutti gli addetti lavori si fanno per questa stagione 2021 è se la squadra losangelina sarà in grado di ripetere il titolo del 2020, cosa sulla carta possibile ma nella pratica è abbastanza improbabile considerato che appunto in generale nel mondo del baseball e negli sport americani in generale è abbastanza complicato ripetersi. Certo i Dodgers hanno una squadra di assoluto livello, hanno addirittura potenziato il loro monte di lancio insomma hanno tutte le carte in regola per ricominciare a vincere e appunto inanellare un'altra stagione vincente dopo la 2020. È una stagione quella del 2021 che ha tanti cambiamenti sia dal punto di vista dei regolamenti sia dal punto di vista del format perché appunto dopo la stagione strana dell'anno scorso con solo 60 partite di regular season più i playoff la Major League Baseball ha deciso di tornare al format tradizionale dunque 162 partite di regular season più i playoff a 10 squadre dunque prima serie con il Wild Card Game, poi le Division Series al meglio delle 5, le Championship Series al meglio delle 7 e ovviamente la World Series al termine di tutte queste serie di playoff sempre al meglio delle 7 partite 30 squadre al via e dunque andiamo a fare una presentazione così come ho fatto per le varie stagioni passate di Major League Baseball e anche per i campionati motoristici qui sul mio canale delle squadre una per una del 2021 partendo dalle squadre che hanno meno velleità per culminare con i top 10 dei power ranking degli addetti ai lavori della Major League Baseball prima però di addentrarci in questa chart rundown se così possiamo chiamarla andiamo appunto a elencare quelli che sono i cambiamenti rispetto alla stagione spassata e come accennavo prima sono dei ritorni nel format tradizionale perché appunto ci sarà una stagione completa 162 partite di regular season per tutte le squadre ci saranno anche 20 partite di interlega il calendario dell'interleague vedrà lo scontro tra le due parti est di American e National League le due central e le due west divisions dunque avremo tante parti interessanti come per esempio a est il derby di New York nella central il derby di Chicago e a Los Angeles ci sarà invece il derby tra la squadra dei Dodgers appunto campione in carica e gli Anaheim Angels o Los Angeles Angels of Anaheim per usare il termine completo nella parte west tante partite interessanti tornerà lo star game ci sarà anche una prima volta in assoluto per quanto riguarda la Major League Baseball ovvero una partita al cosiddetto Field of Dreams un campo storico diciamo per il baseball americano dal quale hanno tratto anche il famoso film con Kevin Costner ci sarà un match speciale a diverse laio a 12 di agosto tra New York Yankees e Chicago White Sox invece per quanto riguarda un altro appuntamento del Major League Baseball ovvero il Little League Classic ci sarà appunto un match tra i Cleveland Indians e appunto i Los Angeles Angels ospitato in un ballpark della Pennsylvania a Williamsport per la coccisione il 22 di agosto questi sono diciamo gli appuntamenti clou oltre ovviamente il ritorno dello star game che è stato saltato la scorsa stagione dal punto di vista dei regolamenti del campo le due cose da tenere in mente rispetto alla stagione passata sono queste sono regole che sono state mantenute nella stagione 2021 se ci saranno dei double header verranno giocati entrambi al meglio dei sette inning che vuol dire che per esempio se ci sono delle concomitanze che fanno giocare due partite al giorno a due formazioni anziché giocare sui nove inning tradizionali del baseball ci saranno due partite da sette inning appunto una verosimilmente al pomeriggio e l'altra verosimilmente alla sera un'altra regola mantenuta rispetto alla stagione 2020 è questa ovvero quella che in Italia si chiama tie break ovvero quando ci saranno gli inning supplementari quindi tendenzialmente dal nono in poi per quanto riguarda le partite tradizionali e dal settimo in poi per quanto riguarda le partite dei double header non si inizierà a basi scariche ma verrà posizionato un corridore in seconda quindi in posizione punto un po' anche per accelerare i tempi degli inning supplementari è una regola presa diciamo dal baseball europeo ed è appunto stata confermata dopo la stagione della pandemia dell'anno scorso per quanto riguarda altri cambiamenti qui ci spostiamo nella pagina degli allenatori si sono tre squadre che hanno cambiato guida i Detroit Tigers hanno diciamo cambiato Ron Gardner che si è ritirato con AJ Hinch che peraltro è un manager abbastanza discusso un po' perché appunto ha vinto il titolo con gli Houston Astro del 2017 e appunto perché ha vinto quel titolo del 2017 è stato coinvolto insieme all'allora bench coach Alex Cora nello scandalo dei segnali rubati che dunque combinò sia ad Alex Cora sia a AJ Hinch una squalifica di un anno AJ Hinch ha appunto saltato la stagione passata e torna in una panchina di Major League Baseball e va in quello che resta dei Detroit Tigers una squadra di fatto senza abbinzioni torna anche Alex Cora che appunto dopo essere stato licenziato dai posto Red Sox torna nel Massachusetts per guidare la squadra che guidò al titolo del 2018 quindi l'anno dopo il titolo di AJ Hinch e di Houston Astros Alex Cora appunto fu coinvolto appunto perché si pensò che anche i Red Sox furono coinvolti con gli stessi metodi che usarono gli Astros nel 2017 poi in realtà l'indagine non fece il suo corso ma appunto perché Cora fu bench coach di AJ Hinch negli Houston Astros del 2017 appunto venne squalificato la notizia che in realtà fa più specie agli appassionati di baseball è questa ovvero i Chicago White Sox che sono tornati ai playoff lo scorso anno perdendo la serie di tre partite contro Oakland hanno licenziato Rick Renteria il manager che di fatto gli ha rimessi sulla mappa dei playoff dopo veramente una vita con un grande veterano del baseball americano ovvero Tony La Russa storico manager dei St. Louis Cardinals che li ha portati a compiere la dinastia appunto dei Cardinals vincenti e presenti sempre ai playoff ebbene La Russa non allena una squadra da dieci anni perché appunto l'unica formazione che ha allenato in tempi recenti sono stati proprio i Cardinals l'ultimo anno fu il 2011 La Russa di fatto all'improvviso torna ad allare una squadra di baseball ed è una squadra assolutamente interessante perché come vedremo poi nella classifica diciamo delle migliori 30 squadre i White Sox occuperanno posizioni assolutamente interessanti perché il potenziale di questa squadra è veramente alto e già nei playoff dell'anno scorso i White Sox hanno veramente sorpreso e hanno fatto parlare di sé ma ovviamente dei White Sox ne parleremo nel proseguo di questo video è una scelta abbastanza strana quella di Tony La Russa onestamente non so che cosa possa significare da esterno così tanto che loro sono in America e io sono in Italia sarà comunque un ulteriore elemento di interesse vedere come verranno applicati i principi di un allenatore che non allena appunto da dieci anni nel baseball moderno che è veramente tanto cambiato un baseball che soprattutto negli ultimi anni ha come principio la long ball, la palla lunga quindi tanti fuoricampo a discapito delle partite magari di lanciatori o le partite prettamente difensive fatte queste premesse ci siamo già scaldati verso quelle che sono i principali cambiamenti della stagione baseballistica americana 2021 e andiamo allora a sfruttare una classifica i power ranking della Major League Baseball facendo una sorta di chart run down tendenzialmente parlavo delle squadre più forti senza menzionare le altre quest'anno nel video di presentazione della Major League Baseball voglio presentarle più o meno tutte dando il giusto spazio a ognuna di esse non sarà così in realtà per le squadre di fondo classifica perché come vedremo ci saranno tante squadre che dovranno rifondare e saranno evidentemente orientate a un progetto molto futuro a cominciare dai Pittsburgh Pirates che sono di fatto secondo il sito di sportsnot.com la squadra peggiore della Major League Baseball secondo ovviamente i power ranking perché ovviamente è la squadra che ha un monte salario assolutamente inferiore rispetto agli altri è una squadra che sta iniziando a rifondare da diverso tempo sembra l'unica squadra che non ha velleità di chance nella National League Central scusatemi una division veramente pazzesca dove tendenzialmente quattro squadre se la possono giocare per andare ai playoff magari meno i sensinati Reds ma Cubs, Brewers e Cardinals assolutamente sì per Pittsburgh così come la stagione scorsa è appunto una regular season di apprendistato salendo di posizioni andiamo alla 29esima e il discorso è lo stesso per i Baltimore Orioles che sì hanno preso la prima scelta assoluta nel 2019 ovvero un catcher Edry Ruchman ma per il resto non sono neanche lontanamente paragonabili alla squadra che nel 2013-14 fece quello che fece andando ai playoff contendendo magari anche il titolo agli Yankees la buona notizia per gli Orioles che è tornato a giocare tra i mansini dopo aver lottato contro una brutta malattia le altre addizioni per quanto riguarda gli Orioles sono Freddie Galvis e Anthony Santander però sono anche diciamo giocatori che potranno essere scambiati alla 3 Deadline che vi ricordo che nel baseball è sempre il 31 luglio è una squadra anche questa molto futuribile ma nell'American League East per gli Orioles difficile che ci siano delle chance stesso discorso vanno fatte anche per le squadre che vedremo più avanti in particolare i Colorado Rockies perché se qualche tempo fa i Colorado Rockies potevano avere delle chance con l'accessione di Nolan Arenado ai Cardinals la formazione di Denver evidentemente adesso avrà una stagione veramente difficoltosa perché rimane soltanto Trevo Story come Go2Guy ed effettivamente non è più una squadra che possa avere tante belleità soprattutto nella divisione dove ci sono i Dodgers che da anni oramai monopolizzano la National League West posizione numero 27 dove aver parlato invece dei Colorado Rockies abbiamo i Texas Rangers che hanno avuto l'onore di ospitare le World Series del 2020 al Globe Live Field senza peraltro poterci di fatto giocare col pubblico presente perché appunto la Major League Baseball apri al pubblico soltanto al World Series tra Tampa Bay Rays e Los Angeles Dodgers ma per Rangers, Pirates, Orioles e Rockies i discorsi sono prevalentemente gli stessi non dovrebbero esserci grosse chance per i Rangers in questa situazione una squadra che invece è nella terra un po' di nessuno ma che ancora una volta deve trovare un'identità sono gli Arizona Diamondbacks anche loro protagonisti nella National League West della division dei Dodgers e dei Giants per quanto riguarda appunto questa divisione ci sono dei talenti interessanti come per esempio Dolton Varsko e Zach Gallen lanciatore assolutamente interessante in ogni caso non hanno dei campionissimi che possono diciamo per il momento cambiare l'equilibrio della stagione dei Diamondbacks ci sono dei prospetti interessanti come per esempio Ketel Marte, Eduardo Escobal e David Peralta che sono i giocatori dove Arizona potrebbe effettivamente affidarsi ma come abbiamo fatto il discorso per altre squadre in precedenza effettivamente sembrano squadre destinate a cedere questi campioni nel appunto corso della straight deadline nella 25esima posizione sono i Kansas City Royals che continuano ancora una volta anche loro a rifondare le formazioni non ci sono in realtà prospetti di una stagione incredibile in realtà è notizia di qualche tempo fa che Salvador Perez il catcher che vinse il titolo nel 2015 con i Royals ha effettivamente confermato e steso il contatto di recente per il resto non ci sono anche in questo caso tante chance bisogna vedere poi come si potranno comportare i giocatori chiave come per esempio Wip Merrifield ad Alberto Mondesi Carlo Santana grande esperto e Orge Soler che comunque è un giocatore anche lui esperto certo non è quello dei Chicago Cups ma comunque per i Royals può essere un'addizione assolutamente interessante ma per il resto non sembra esserci quel core per puntare a una stagione interessante 24esima posizione invece per quanto riguarda i Seattle Mariners che sono un'altra squadra che da anni naviga nella terra di nessuno anche in questo caso parliamo di American League West una division che sembra evidentemente come dire monopolizzata dagli Oakland Athletics e dagli Houston Astros che ormai da anni si contendono il titolo di palma della American League West le altre squadre quindi Seattle Los Angeles Angels e Texas di certo fanno il campionato degli altri Seattle sembra avere un passo in più rispetto alle squadre che ho citato c'è Mitch Eniger che comunque è un grande ritorno dopo aver saltato di fatto una stagione e mezzo perché si è infortunato nel 2019 e poi ha saltato tutta la 2020 ci sono degli arrivi interessanti come per esempio Jared Koenig che è uno degli esterni più promettenti del gioco del baseball soprattutto è classificato uno dei migliori 10 prospetti in tutta la MLB c'è Taylor Tremel che è un prospetto top 100 c'è Logan Gilbert Julio Rodriguez che invece è un esterno insomma c'è del materiale su cui Seattle può effettivamente lavorare e magari non per questa stagione potrebbe essere una stagione magari da record vincente però non da playoff vedremo poi cosa potrà riservarci la formazione che gioca al T-Mobile Park di Seattle alla 23esima posizione abbiamo un'altra nobile di questo sport ovvero i San Francisco Giants che anche in questo caso non dovrebbero avere le chance di vincere la division perché contro questi Dodgers onestamente si può fare veramente poco giocano ancora una volta all'Oracle Park uno degli stadi più belli del mondo per giocare a baseball devono ancora una volta continuare quel processo di rifondazione che stanno facendo da anni a questa parte non sono più i Giants vincenti di Madison Bangar della prima dinastia della decada degli anni 2000 dove vinsero tra titoli nel 2010 12 e 14 da anni i Giants non arrivano ai playoff e difficilmente considerato che i Dodgers ammazzano la division e nelle altre divisioni sono squadre assolutamente competitive ci potranno essere speranze però in ogni caso è una squadra da tenere d'occhio anche se magari non per quest'anno ma per gli anni futuri saliamo e andiamo alla 22esima posizione e troviamo i Detroit Tigers stesso discorso fatto per i Giants è una nobile decaduta di questo sport da anni non arrivano ai playoff hanno comunque dei prospetti interessanti in particolare sul monte di lancio da tenere d'occhio ci sono Casey Mize e Tariq Skubal che appunto faranno ancora una volta la stagione da rookie effettiva dopo aver debuttato lo scorso anno appunto nella regular season per il resto bisogna vedere come si comporteranno le scelte fatte perché per esempio ci potrebbero essere chance di vedere la pick numero uno al draft Spencer Torquison che pare abbia un grandissimo potenziale certo non sarà il primo anno di Torquison anche sulle varie Tigers comunque anche loro sono una squadra futuribile un po' nella terra di nessuno diciamo che fino alla numero 15 probabilmente troveremo squadre un pochino nella terra di nessuno a cominciare dai Miami Marlins che ancora una volta hanno fatto una stagione sorprendente lo scorso anno e probabilmente hanno overperformato certo hanno una rosa talmente giovane che è difficile vederli riconfermarsi sulla carta ad alti livelli i Miami Marlins hanno fatto comunque già una scelta rivoluzionaria nella off season dando il ruolo di general manager a Kimberly Heng che è la prima donna a occupare un ruolo di così alto livello in una franchigia di Major League Baseball certo i Marlins sono una squadra interessante perché ci sono tantissimi lanciatori che hanno fatto benissimo ai playoff contro appunto le squadre che li hanno visti avversari in particolare Sandy Alcantara Pablo Lopez Sixto Sanchez hanno una grandissima profondità ed hanno tanta qualità a un monte di lancio che per il futuro può essere assolutamente interessante bisogna vedere se finalmente Miami dopo anni di tanking e di cessioni sfrenate potrà essere finalmente una squadra in grado di tenere ovviamente i propri talenti torniamo su e finalmente scolliniamo nei migliori eventi e andiamo in un'altra squadra che ha fatto il playoff lo scorso anno ovvero i Cincinnati Reds una squadra che ha perso in realtà il suo asso sul monte ovvero Trevor Bauer che è andato ai Los Angeles Dodgers è stato tra i dati anche il closer dei Cincinnati Reds ovvero Ryze L'Iglesias insomma effettivamente i Reds non si sono talmente tanto rinforzati dopo la stagione passata dove avevano comunque una votazione più che buona con Sonny Gray ex Oakland e soprattutto Trevor Bauer vedo una stagione più in discesa dei Cincinnati Reds in ogni caso possono essere una formazione che possono guastare un po' la festa alle contendenti della National League Central per i playoff li vedo potenzialmente quarti nella loro division davanti ovviamente a quello che resta dei Pittsburgh Pirates però anche i Cincinnati Reds probabilmente dovranno guardare a stagioni future diciannovesima posizione in questo power ranking sono i Boston Red Sox che appunto come detto hanno effettivamente ringaggiato Alex Cora il manager che li portò al trionfo nel 2018 non è però la squadra che tempo fa si contese il titolo dell'American League West e East scusatemi ovviamente e non solo con i New York Yankees da anni oramai i Red Sox hanno intrapreso una strada verso il tramonto e difficilmente si vede la luce in fondo al tunnel anche perché potenzialmente nella American League East ci sono già delle squadre molto più interessanti e basta citare le tre che rimangono Tampa Bay Rays New York Yankees e i Toronto Blue Jays che sono una squadra oltremodo interessante dopo appunto il manager ad interim Ron Roenich appunto i Boston Red Sox hanno confermato Eduardo Rodriguez hanno confermato Martin Perez peraltro Eduardo Rodriguez sarà il lanciatore partente dell'opening game è arrivato Garrett Richards dopo la stagione di Miami dello scorso anno ritorna a Cristale dopo aver perso la stagione scorsa per un infortunio insomma il potenziale c'è ci sono tanti punti di domanda però ed è per questo che i Boston Red Sox secondo sportnut.com sono alla diciannovesima posizione diciottesimi sono i Los Angeles Angels of Anaheim la squadra che di fatto contempla il miglior giocatore del gioco nell'era moderno ovvero Mike Trout una squadra che ha garantito alla propria superstar un contratto faraonico a vita sostanzialmente ma che intorno a lui non riesce mai a creare una squadra competitiva l'anno scorso è arrivato Anthony Rendon giocatore di assoluto livello che però non ha reso e i Los Angeles Angels non sono arrivati neanche ai playoff l'anno scorso quando era potenzialmente più facile visto che c'erano 16 squadre anziché 10 certo i core diciamo dei Los Angeles Angels appunto sono Rendon Trout e Shai Otani lanciatore di culto e non solo perché Otani fa anche il battitore disegnato e peraltro gira la mazza anche abbastanza bene sbattendola fuori a ripetizione quella pallina altri acquisti interessanti sono stati soprattutto nel reparto esterno centro in particolare è arrivato Dexter Fowler ex Chicago Cubs e ex San Luis Cardinals sul Monti di Lancio invece sono arrivati Jose Quintana dai Cubs e Alex Cobb dunque bisogna vedere come andrà a incidere soprattutto la rotazione dei partenti dei Los Angeles Angels da sempre il talone d'Achille della formazione Los Angelina che appunto ha un attacco potenzialmente interessante se non di altissimo livello con Trouto Rendon e compagnabella ma il Monti di Lancio purtroppo è un fattore in questo gioco e i Los Angeles Angels storicamente non l'hanno mai avuto 17esima posizione bisogna vedere come si comporteranno i Chicago Cubs che sono dati terzi evidentemente nella National League Central la squadra che è sempre comunque solida non è mai trascurabile evidentemente è una squadra che conferma Chris Bryant conferma ovviamente Wilson Contreras conferma anche il mago Javier Baez tuttavia sono stati ceduti John Lester Hugh Darvish e Kyle Schfarber che sono comunque dei giocatori fondamentali giocatori che vinsero quel famoso titolo nel 2016 contro i Cleveland Indians Hugh Darvish in realtà arrivò più avanti comunque è un lanciatore di assoluta qualità che effettivamente può dare un contributo fondamentale per una volta possiamo dire che i Cubs da sempre prima squadra di Chicago per tradizione e per tifo potranno probabilmente guardare dal basso i Cugini dei White Sox i Southsiders sono una squadra assolutamente di livello e ne parleremo quando arriveremo alla loro posizione posizione invece numero 16 andiamo ancora una volta nella National League Central e parliamo dei Milwaukee Brewers una squadra che conferma l'MVP del 2019 ovvero Christian Jelic non potrebbe essere altrimenti Milwaukee è comunque una squadra che è in una division veramente folle perché St. Louis è una squadra di assoluto livello gli stessi Brewers lo sono e i Cubs comunque non partono battuti bisogna vedere effettivamente come si potranno comportare i giocatori chiave appunto Christian Jelic che è sonjura bisogna vedere come rientrerà Lorenzo Cain dopo aver saltato la stagione scorsa appunto per di fatto i Covid-19 nell'esterno centro però è arrivato anche un altro giocatore fondamentale ovvero Jackie Bradley insomma il core di Milwaukee è interessante potenzialmente è una squadra che potrebbe puntare ai playoff se non magari per vincitrice diretta di division ma magari per wild card in ogni caso attenzione a questa National League Central che insieme alla National League East è il solito bagno di sangue per noi appassionati del meraviglioso gioco del baseball è assolutamente interessante andiamo adesso in top 15 parliamo dei Cleveland Indians che hanno di fatto basato alla propria squadra sull'uomo che vedete qui inquadrato ovvero Oser Amires hanno ceduto Francisco Lindor a New York Mets hanno comunque aggiunto un giocatore assolutamente interessante ovvero l'esterno portoricano Eddie Rosario bisogna vedere comunque come si comporterà la stagione dei Cleveland Indians sul Monte di Lancio perché la rotazione degli Indians è assolutamente uno dei punti di forza della formazione dell'Ohio perché Shane Bieber non l'abbiamo di certo scoperto oggi deve confermarsi dopo la stagione di grazia dell'anno scorso dove appunto è stato Cy Young Award per l'American League Zach Plisak è un lanciatore di assoluto livello e Tristan McKenzie ha sorpreso tutti nella prima stagione di Aruki l'anno scorso e dunque bisogna vedere come Tristan si adatterà la stagione dopo insomma attenzione a Cleveland per il Monte di Lancio l'attacco dovrà un attimo ingranare meglio però le premesse sono interessanti per una squadra che comunque deve contendere il titolo dell'American League Central ai Minnesota Twins altra squadra assolutamente da tenere d'occhio andiamo avanti nella classifica e andiamo a parlare di un'altra squadra della National League East dopo i Miami Marlins che erano in ventunissima posizione parliamo dei Washington Nationals che furono campioni nel 2019 in quella serie stranissima con Houston dove tutti vinsero in trasferta l'American League East la National League East meglio scusatemi è ancora una volta il bagno di sangue perché tolti magari i Miami Marlins che nemmeno loro partono battuti in realtà ci sono quattro squadre che possono tranquillamente come potenziale arrivare ai playoff e i Washington Nationals effettivamente sono una di queste squadre hanno preso Kyle Schwarber dai Chicago Cubs hanno preso da Pittsburgh Josh Bell in prima base hanno rinforzato anche il closer che per chi non conoscesse il gioco del baseball è il lanciatore che sale sul monte di lancio quando c'è una situazione di tre punti di vantaggio o meno per chiudere la partita e far vincere la propria squadra hanno preso Brad Hand dai Cleveland Indians sul monte di lancio hanno poi avuto ulteriori aggiornamenti con John Lester dunque un altro grande veterano che vada a affiancarsi a Max Scherzer e compagnia bella insomma è una squadra assolutamente interessante che ha un fuoriclasse in squadra ovvero Juan Soto e le addizioni sembrano far pensare a una formazione di Washington assolutamente sul pezzo che può puntare secondo me ai playoff bisogna vedere però cosa ne pensano le altre squadre perché Atlanta Braves New York Mets e ovviamente Philadelphia Phillies non partono battuti tredicesima posizione mentre l'italiano va a farsi benedire sono gli Houston Astros che ancora una volta si dimostrano una squadra da playoff il core è sempre quello da anni Altuve e Bregman non si discutono anche quando sembrano spacciati effettivamente sembrano effettivamente una squadra diversa sembrano una squadra in grado di rimontare e dire sempre la loro non bisogna mai darli per morti gli Houston Astros anche travolti dagli scandali più pesi insomma hanno sempre detto la loro e la stagione scorsa effettivamente lo ha dimostrato è andato via Jock Springer perché è andato ai Toronto Blue Jays torna però Justin Verlander che la stagione scorsa l'ha saltata di peso per l'operazione Tommy John che è un'operazione che viene fatta al gomito e tendenzialmente i lanciatori quando tornano da questa Tommy John tendenzialmente vanno anche a livelli un po' più alti appunto il core è Oseo Altuve Jordan Alvarez Carlos Correa Kyle Tucker e appunto Alex Bregman bisogna vedere appunto come si comporteranno anche altri nuovi acquisti in particolare Jake Odorizzi che è una gran bella addizione dai Minnesota Twins appunto è stato uno scambio con un altro lanciatore che fece molto bene i playoff in particolare nella prima gara con Oakland ovvero Franber Valdez che appunto è stato ceduto dagli Houston Astros comunque la formazione del Texas è assolutamente interessante viene data un pelo sotto a Oakland che l'anno scorso fece una bella stagione Oakland però deve riscattarsi mentre Houston potrebbe arrivare forse col morale un pochino più alto visto anche il potenziale dimostrato lo scorso anno andiamo alla 12esima posizione e andiamo ai Philadelphia Phillies un'altra delle squadre terribili della National League East che appunto deve basare il proprio attacco su Bryce Harper colui che è andato via da Washington nell'anno in cui lo stesso Washington vinse il titolo effettivamente quello che andava a sistemarsi non era più che altro l'attacco perché comunque questo è sempre stato un punto di forza dei Phillies moderni ma è appunto il bullpen ovvero i lanciatori di rilievo quelli che entrano a partita in corso per sostituire il partente il bullpen dei Philadelphia Phillies hanno avuto 12 mancate salvezze la situazione di che vi dicevo prima se un lanciatore che va per chiudere la partita subisce dei punti e magari la loro squadra pareggia o perde è una diciamo salvezza mancata una blown save in termine tecnico e spesso magari anche una sconfitta se appunto la vittoria arriva appunto per colpa tra virgolette del closer non solo nonostante le salvezze mancate c'è anche un ulteriore aspetto da considerare che è la media punti guadagnati sul lanciatore ovvero 7.06 una media altissima del bullpen il che vuol dire che se una squadra in media affrontasse il bullpen dei Phillies su 9 inning il bullpen dei Phillies subirebbe 7 punti a partita che sono veramente un'enormità le addizioni dei Philadelphia figli sono stati Archie Bradley e José Alvarado nella offseason e comunque assolutamente acquisti di livello peccato aver mancato Gianco Dorizzi in Friglisi ma comunque Philadelphia deve sistemare il bullpen e basarsi appunto sul ruolo che vedete qui inquadrato come dicevo prima ovvero Bryce Harper 11esimi sono gli Oakland Athletics che vengono dati da sportnot.com i potenziali vincitori dunque della American League West Oakland è una squadra che è tornata ai playoff dopo veramente tanto tempo è tornata a essere una squadra interessante una squadra di potenza prevalentemente soprattutto con i due Matt Matt Chappan in terza base e Matt Olson in prima c'è ovviamente un altro giocatore chiave che è stato confermato ovvero l'esterno centro Ramon Laureano a loro devono aggiungersi ovviamente delle aggiunte importanti e si è aggiunto Trevor Rosenthal un grande veterano di questo gioco un rilievo di assoluto livello che a me piace tantissimo hanno preso Sergio Romo che comunque è uno che i playoff li ha fatti più volte ha vinto anche le World Series con i San Francisco Giants bisogna vedere ovviamente anche un altro aspetto ovvero come tornerà Frankie Montas lanciatore che nel 2019 fece un anno di grazia nel 2020 molto meno bene e invece bisogna vedere se potrà imbroccare la stagione dispari gli stessi livelli del 2019 comunque Oakland attenzione perché non solo ha un attacco fondamentale ma anche una monte di lancio assolutamente di livello e appunto per questo Sportnacht li mette in unicesima posizione e potenziali vincitori dunque della American League West sugli Houston Astros adesso andiamo nelle posizioni calde perché andiamo nella top 10 e partiamo con la formazione di St. Louis che solo con l'acquisto di Nolan Arenado arrivato in off-season tramite trade effettivamente alza e di molto le posizioni della propria classifica se St. Louis gli altri anni era una squadra che poteva giocarsela per i playoff e recitare un ruolo di comparsa perché magari poteva andare fuori ai primi turni con Nolan Arenado da una sostanziale scossa al proprio attacco l'uomo franchigia ex dei Colorado Rock che si è andato appunto è St. Louis e questo è assolutamente uno degli acquisti fondamentali per la formazione del Missouri un team di St. Louis che oltre a Nolan Arenado in realtà appunto ha giocatori importanti come Dylan Carlson Paul De Jong Paul Goldsmith in prima base insomma il potenziale offensivo c'è bisogna vedere come appunto si comporterà la formazione di St. Louis che tradizionalmente è una squadra che a ottobre ci può arrivare il potenziale c'è vedremo se avranno la scossa poi per puntare a qualcosa di grosso certo sulla carta sono ragionamenti che lasciano molto tempo che trovano faremo le prime considerazioni vere pre-playoff post-All-Star Game che appunto è il Midsummer Classic quindi ne parleremo ovviamente a luglio inoltanto comunque attenzione ai Cardinals perché è solo una squadra che potenzialmente possono tornare ai livelli che gli competono ovvero vincere il titolo non a posizione andiamo a quelli che furono i finalisti dello scorso anno ovvero i Tampa Bay Rays e non ottavi ovviamente come riportato dal sito Tampa Bay ha fatto una stagione veramente di grazia l'anno scorso con un monte salari veramente ridicolo rispetto ai Los Angeles Dodgers ma anche a molte altre squadre che erano arrivate ai playoff sono arrivati fino in finale con un'identità di squadra nel vero senso del termine la scuderia dei Tampa Bay Rays ovvero il monte rilievi ha fatto una stagione veramente di Cristo ha di fatto sempre chiuso la porta hanno scoperto un grande talento ovvero Randia Rosarena il cubano alla prima stagione da rookie insomma Rendino ha fatto veramente quello che voleva i Tampa Bay Rays diciamo non si sono diciamo stati fermi a guardare ma hanno fatto qualche aggiustamento qua e là il corso era sempre lo stesso dell'anno scorso con però un Blake Snell in meno che è andato a San Diego Padres in ogni caso Blake Snell è stato cambiato con due lanciatori ovvero Colin McHugh e Rich Hill un altro grande veterano dunque è una squadra comunque da tenere d'occhio perché han cambiato poco e tendenzialmente le squadre che cambiano poco possono confermarsi ancora una volta l'anno dopo certo magari non per vincerla diviso quest'anno perché gli Yankees sembrano avere un potenziale superiore in questa American League East ma attenzione a Tampa Bay Rays anche loro come gli Houston Astros mai darli per molti proseguiamo la nostra classifica e andiamo all'ottava posizione vera e propria e qui vediamo un'altra appunto contender dell'American League East ovvero i Toronto Blue Jays una squadra che ha aggiunto a Bobby Shett e a Vladimir Guerrero Jr una addizione di primissimo livello ovvero George Springer che è andato in frasi da Houston ai canadesi ed è all'esterno centro che effettivamente può dare la scossa a questa squadra che effettivamente può tornare ai playoff dopo quella stagione di grazia con il poker della paura Bautista Donaldson Encarnacion e Troy Tulovitsky al core appunto che ho detto si aggiunge George Springer è stato confermato ancora una volta Hanjin Ryu è stato acquistato Marcus Simeon come seconda base interbase esperto insomma i Toronto Blue Jays hanno fatto veramente una fantasy veramente interessante magari non solo al livello degli Yankees ma sono una squadra assolutamente da vedere per il potenziale che hanno e per la gioventù degli atleti citati perché comunque Guerrero Jr Bichette sono dei ragazzini di fatto possono assolutamente far parlare di 6 canadesi per gli anni a venire e non solo per questa stagione dunque attenzione a maggior ragione ai canadesi i Toronto Blue Jays stanno tornando e mi auguro di vederli veramente pre-off perché se lo meritano andiamo avanti con la settima posizione qui parliamo della potenziale leader ormai da anni dell'American League Central ovvero i Minnesota Twins che da anni hanno effettivamente costruito tante squadre competitive anche l'anno scorso sono arrivate ai play-off hanno perso purtroppo malamente la serie da tre partite contro il Houston Hazel ma il potenziale era veramente allucinante perché Max Kepler è un giocatore che dall'Europa dalla Germania si è fatto e finito nella appunto American League in particolare con appunto i Minnesota Twins i Minnesota Twins che hanno anche un line-up di tutto rispetto basta vedere questi nomi Josh Donaldson terza base l'uomo che porta la pioggia uno dei miei giocatori preferiti di questo sport Nelson Cruz il veterano battitore disegnato che comunque anche a 40 anni suonati è un fuoricampista di primissimo livello c'è Alex Kirilov esterno sinistro assolutamente buono e soprattutto Miguel Sanu un altro di quei battitori assolutamente da tenere d'occhio uno dei go-to guy di Minnesota bisogna vedere poi come si comporteranno i lanciatori in particolare Michael Pineda che dovrebbe ripetere si spera nelle intenzioni di Minnesota la stagione 2019 bisogna vedere anche come si comporterà un altro lanciatore fondamentale ovvero J.A. Happ in ogni caso Minnesota è assolutamente una squadra competitiva e può assolutamente dire la sua attenzione a Minnesota e non siamo nella NBA i Twins per davvero sono competitivi e possono puntare assolutamente al titolo di campioni della American League Central e magari fare una stagione migliore dell'anno scorso ai playoff sesta posizione qui parliamo della squadra che tifo ovvero i New York Mets New York Mets che hanno fatto un acquisto molto interessante nel campo interbase ed è Francisco Lindor che è stato dichiarato dal nuovo proprietario Cohen la superstar della formazione new yorkese all'interbase è arrivato il giocatore portoricano in una trade fantascientifica che ha svenduto in realtà un po' di talenti dei New York Mets ai Cleveland Indians ma in ogni caso l'acquisizione di Lindor è assolutamente interessante aggiungiamo a Lindor acquisti interessanti come James McCann e ai core delle squadre che c'erano già in particolare The Big Bear Pete Alonso e abbiamo una squadra che potenzialmente può tornare ai playoff il grande discorso è come si comporterà la rotazione dei New York Mets in particolare con il ritorno di Noah Sindergaard che appunto ha saltato la stagione per infortunio bisogna vedere poi appunto l'acquisto di un altro lanciatore che va a completare la reazione la rotazione dei Mets che è Tyrone Walker insomma tanti punti di domanda ancora una volta sul monte di lancio una sola certezza ovvero Jacob De Grom sul monte di lancio su quello non ci piove e di solito le partite con Jacob sono assolutamente una cassaforte per i New York Mets è stato appunto spotenziato il reparto dei catcher perché è stato preso dai White Sox James McCann in ogni caso i Mets hanno tantissimo potenziale e se Sindergaard e De Grom fanno la cassaforte come gli anni passati quando erano al top della condizione allora i Mets possono dire la loro perché il monte di lancio ultimamente è sempre stato un problema per la formazione di New York Age che effettivamente ha ancora un dubbo da sciogliere ovvero chi sarà il quinto della rotazione considerato appunto che ci sono ancora una volta dei problemi da quel punto di vista altra pecca dei New York Mets dal punto di vista societario è cambiato qualcosa perché il general manager che è stato preso all'inizio ovvero Jared Porter è stato di fatto licenziato per effettivamente degli scandali compromettenti diciamo che lo riguardavano è stato messo un DM ad interim ovvero Zach Scott e un'altra pecca dei New York Mets che è stata la squalifica di Robinson Cano per un anno causa sostanze dopanti insomma non propriamente un buon viatico ma i Mets nonostante questo sembrano una squadra veramente con potenziale e io mi auguro da tifuso dei Mets che possono assolutamente ritornare ai playoff dopo quel magico 2015 che li vide cavalcare fino alla World Series persa contro i Kansas City Royals andiamo adesso alla top 5 e andiamo nella famosa parte sud di Chicago perché parliamo dei Whites una squadra veramente bellissima da vedere squadra giovane con tantissimo potenziale se faccio alcuni nomi vi vengono assolutamente i brividi per la potenzialità di questi atleti in particolare Eloy Jimenez Johan Moncada Luis Robert la macchina insomma veramente tanta carne al fuoco per questi White Sox che si hanno preso un manager molto esperto come appunto Tony Larussa però hanno veramente un line up assolutamente interessante oltre a quelli che ho citato c'è anche Yasmany Grandel nel ruolo di Kelcher Nick Madrigal è tornato Adam Eaton esterno destro di fondamentale importanza difensiva dai Washington Nationals la rotazione è assolutamente di livello in particolare con Lucas Giolito Lance Lynn Dallas Koic insomma i White Sox fanno paura anche quest'anno e possono assolutamente puntare a una stagione di livello e anche loro sono una squadra che guarderò con molto interesse un po' perché mi stanno simpatici di loro un po' perché finalmente sono una squadra che merita di tornare in alto dopo il titolo vinto nel 2005 veramente una vita fa e i White Sox stanno veramente imbloccando la via giusta verso il successo e dunque ancora una volta attenzione alla formazione di Chicago che può veramente per una volta guardare i Caps da lontano formazione alla quarto post dell'altra squadra di New York dunque la grande mela secondo Sportnot prende due squadre nelle migliori dieci di questa stagione e anche i New York Yankees effettivamente sono una squadra da migliori dieci della Lega quest'anno almeno sulla carta perché ovviamente basta vedere il roster perché abbiamo Aaron Judge abbiamo Giancarlo Stanton abbiamo DJ LeMayo che è ritornato firmato in free agency c'è Clint Frazier che potrebbe essere un altro esterno potenzialmente molto interessante per il salto di qualità definitivo di questa stagione Gleyber Torres è un altro giocatore che agli interni può fare la differenza il monte di lancio è stato potenziato perché sono arrivati Jameson Tyon da Miami e Corey Kluber dopo la stagione di interregno a Texas che in realtà l'abbiamo visto una partita e poi si è rotto insomma è una rotazione assolutamente interessante ovviamente bisogna vedere poi come si comporterà il monte rilievi perché è vero abbiamo il missile cubano Rodis Chapman bisogna vedere però come si comporterà Zach Britton un altro di quei acquisti fondamentali che dovevano potenziare il bullpen degli Yankees ma purtroppo Britton ha dimostrato di essere un pochino discontinuo in particolare per vedere troppi infortuni ma gli Yankees anche una volta sono una squadra da tenere d'occhio non so per vincere il titolo dal momento che in generale la National League ha più squadre competitive mentre l'American League come vedete ha poche squadre nella top 10 in particolare ci sono gli Yankees i Twins ci sono gli Athletics ci sono i White Sox mentre se andiamo a vedere le division della National League ci sono due division che possono potenzialmente portare otto squadre playoff cosa ovviamente improbabile però il potenziale è oggettivamente superiore così come appunto è superiore a popolito la National League il potenziale degli Atlanta Braves che appunto sono una squadra che secondo me sono la più accheritata per arrivare direttamente ai playoff da vincitori della National League East tutte le altre potranno assolutamente contenersi il famoso bagno di sangue per la wild card gli Atlanta Braves hanno fatto un'addizione fondamentale per il loro monti di lancio che è Charlie Morton che di fatto è potenzialmente un numero 2 della rotazione a lui dunque dobbiamo aggiungerlo nel core del line up degli Atlanta Braves ovvero Marcelo Zona Ozzy Alvis Freddie Freeman Ronald Acuna c'è anche Jake Lamb Ender Inciarte è arrivato Jason Kipnis dopo una vita a Cleveland insomma è assolutamente una squadra da tenere d'occhio con soprattutto i lanciatori che hanno fatto benissimo nella stagione scorsa Chris Paddock come per esempio Kyle Wright insomma attenzione ancora una volta agli Atlanta Braves che comunque ogni anno che passa sembrano ingranare sempre di più e offrire molto potenziale a questa zona MLB che li ha visti tornare gloriosi dopo anni veramente di buio assoluto dunque medaglia di bronzo virtuale nei power ranking di Sportnaut per gli Atlanta Braves la medaglia d'argento e la vediamo insieme sono i San Diego Padres che appunto insieme ai Los Angeles Dodgers sono la squadra che dovrà contendere non solo il titolo dell'American della National League West ai Dodgers ma sono potenzialmente una squadra da playoff oramai per tanto tanto tempo il go-to guy non può che essere quest'uomo Fernando Tatis Jr peraltro anche nella copertina di MLB The Show 21 per la prossima stagione i San Diego Padres hanno fatto una off-season veramente fantascientifica perché hanno preso Joe Musgrove hanno preso Hugh Darvish hanno preso Blake Snell hanno effettivamente prospetti interessanti come per esempio Mackenzie Gore che però è un lanciatore che va valutato certo non hanno Mike Levenger che appunto salterà la stagione 2021 e questo è una pecca importante per il monte di lancio ma come vediamo qui insomma per il resto abbiamo una squadra veramente anche dal punto di vista offensivo allucinante perché appunto Fernando Tatis non ha bisogno di presentazioni Manny Bacciado idem Austin Nola il coreano Kim Jake Cronenworth Tommy Pham un grande veterano c'è anche Eric Osmer insomma veramente tanta tanta carne al fuoco per questi slam Diego Padres come l'anno scorso venivano chiamati per via della grande facilità dei Padres di battere i grandi slam che per chi non conoscisce il gioco del Bid sono di fatto il fuoricampo da 4 punti il punteggio massimo ottenibile appunto con un solo giro di massa sbattendo la palla oltre le recinzioni Padres e Dodgers dunque daranno vita a una rivalità immagino molto sentita in questa National League West e lo sono anche dichiarato dai stessi Los Angeles Dodgers che ovviamente sono i primi team sulla carta di questo prospetto che saranno 19 partite di regola la season che sembreranno delle finali Los Angeles Dodgers come appunto detto all'inizio del video hanno confermato la squadra dell'anno scorso e hanno aggiunto Trevor Bauer alla loro rotazione una rotazione che se la andiamo bene a analizzare fa veramente paura perché ritorna David Price dopo aver saltato la stagione dell'anno scorso Trevor Bauer è arrivato in free agency e gli altri lanciatori sono gli stessi dell'anno scorso quindi Clayton Kershaw Warcher Bueller insomma quattro lanciatori veramente da spavento per i Los Angeles Dodgers che nelle World Series avevano il problema di fare un bullpen game ogni quattro partite con Trevor Bauer il problema se lo pongono dopo domani perché effettivamente l'ex giocatore dei Reds ha effettivamente dato un quid in più ai Los Angeles Dodgers che appunto come detto prima possono obiettivamente tentare di ripetersi considerato che non solo sono fortissimi sul modello di lancio ma hanno anche un attacco da paura perché soltanto i nomi di Mookie Betts Justin Turner e Cody Bellinger fanno veramente veramente spavento questi sono la migliore squadra della Lega e probabilmente il potenziale per ripetersi c'è certo nel baseball è difficilissimo ripetersi vincere i dettagli consecutivi soprattutto in uno solo così complicato che va molto a momenti come il meraviglioso gioco del baseball comunque i Dodgers sono veramente una corazzata e provateci voi altre squadre a fermarli almeno queste playoff ci arriveranno sicuramente bisogna vedere se riusciranno ancora una volta arrivare alla finale e a vincerla dopo quella dell'anno scorso sono veramente curioso da tifoso spero che in realtà vinca un'altra squadra perché ancora una volta vedere una corazzata così forte vincere toglie magari un po' di fascino al gioco del baseball da tifoso Mets io spero che i New York Mets appunto vadano ai playoff dopo veramente tanto tempo spero di vedere delle belle sorprese come appunto i White Sox gli Athletics magari il ritorno di squadre accreditate come appunto i St. Louis Cardinals magari vedere la squadra della vita che fa una stagione inaspettata che può dare ancora più interesse a questa stagione che sta tornando l'America si sta riprendendo direttamente dal coronavirus tanto è vero che tutti gli stadi avranno la capienza del pubblico attiva parziale o totale non fa differenza lo stadio del Texas Rangers sarà sicuramente la capienza totale di tutti gli altri almeno il 25% segno che comunque uno sport che ha subito comunque una crisi economica per via della pandemia sta comunque ripartendo dopo veramente un anno di difficoltà ci sarà tanto spettacolo in questa Major League Baseball 2021 chi sarà in grado di fermare i Dodgers fatemelo sapere in un commento qui sotto al termine di questo video di approfondimento la programmazione del mio canale prima di salutarvi sarà la seguente ci sarà il primo post gara del Racing Podcast sulla Formula 1 bisogna vedere se sarà direttamente domenica sera dalle 9 in poi o comunque in seconda serata o il giorno dopo in quel caso l'orario sarebbe alle ore 19 martedì invece alle ore 19 Racing Podcast del giorno dopo sulla MotoGP che riparte con il Gran Premio del Qatar e poi ci sarà come al solito la prima settimana di gioco dell'MLB che partirà il primo di aprile avremo subito le prime partite a caldo in attesa del Monthly MLB l'appuntamento mensile con i podcast dedicati al meraviglioso gioco del baseball il saluto da parte di Metotorgar ci vediamo dunque al prossimo video